Valentina Esposito arriva a Campobasso per la prima volta e porta la famiglia, anzi famiglia. Non è rimasta a Campobasso, ti ci ha portato Chiara, la vediamo qui. Due attori campobassani, Giulio Maroncelli e Chiara Cavalieri. Com'è stato questo approccio con la città? Meraviglioso, siamo arrivati, ci siamo sentiti accolti. È un clima straordinario, il teatro è bellissimo e sono molto orgogliosa di approdare qui con questa esperienza che ha qualche anno di vita e che adesso si affaccia ai circuiti distributivi nazionali. La tua è una funzione sociale importante perché in qualche modo riesci a rivalutare la vita di tanti detenuti. Qual è stata la difficoltà maggiore che hai avuto nell'affrontare questa avventura? Dunque questa è un'avventura che ha inizio diverso tempo fa. Io ho lavorato per quasi 15 anni nel penitenziario di Re Bibbia Nuovo Complesso a Roma e quindi portando avanti diversi laboratori di teatro all'interno delle carceri. Come è noto l'amministrazione penitenziaria offre questi percorsi per accompagnare i cittadini detenuti nel loro cammino di reinserimento sociale e professionale. Quello che noi abbiamo cercato di fare è di dare un proseguimento a questa attività all'esterno. Dunque nel 2014 nasce Fortapache e questo non è stato un salto semplice. Quindi dare continuità, dare stabilità all'esperienza anche al di fuori dell'istituzione. Riallacciare in qualche modo la relazione con le istituzioni al di fuori delle mura del penitenziario e portare la compagnia comunque ad un livello di professionalità tale da poter accedere appunto anche a opportunità lavorative. E quindi dare a queste persone delle concrete possibilità da questo punto di vista. Senti, il vostro rapporto con le istituzioni mi sembra abbastanza importante. Ho letto del patrocinio del garante regionale delle persone con ristretta libertà. Che cosa si può ancora fare e qual è stato il risultato più grande che hai ottenuto? Molto si può ancora fare. Attorno all'esperienza di palcoscenico, alla pratica di palcoscenico, c'è un lavoro importante di messa in rete. Da questo punto di vista creiamo dei ponti fra il carcere e la società, fra l'università, le scuole, l'amministrazione penitenziaria ancora, ma anche il sistema dello spettacolo. Dunque c'è veramente una fatica dietro tutto questo lavoro artistico che tende in qualche modo a creare una comunicazione fra questi mondi. È un risultato importante. Questo probabilmente è il risultato più importante. Tu vivi la realtà carceraria da vicino, ci sono dei problemi grossi in Italia, soprattutto il sovraffollamento. Poi ho letto di un tasso di suicidi molto alto di persone che ancora non sono state giudicate, quindi è anche un altro problema. L'approccio con i detenuti è semplice oppure è difficoltoso? Come funziona? Dunque, in carcere c'è una necessità di teatro. È quasi forse più semplice cominciare delle esperienze significative all'interno che fuori, perché l'esperienza teatrale è legata a un bisogno, a un'urgenza di comunicare con l'esterno. Il palcoscenico diventa in qualche modo una finestra di dialogo, non solo con la società in senso ampio, ma anche con i propri contesti di provenienza, con i familiari, con le persone con le quali si condivide la vita all'interno delle mura del penitenziario. E dunque c'è un bisogno assoluto. L'approccio è difficile, chiaramente, perché si tratta di persone che probabilmente conoscono il teatro per la prima volta in quel momento, dunque non professionisti, ma il teatro che si fa dentro è appunto un teatro che tiene conto di questo e che quindi fa proprio alcune tecniche e metodologie di ascolto che rientrano in quello che noi definiamo teatro sociale, che ha appunto capacità di entrare in relazione anche con questo tipo di persone, attori. Adesso per me è difficile anche... Da tutto questo è nato Famiglia. Da tutto questo è nato Famiglia. Famiglia, che è uno spettacolo importante. Io ne vorrei parlare con te, però preferirei che ne parlassero direttamente gli attori, perché tu ne avrei parlato sicuramente mille volte. Andiamo dai Campobassani. Giulio, che è arrivato da poco, ha debuttato a Napoli. Come è stato il debutto? Il debutto è stato complicato, non semplice. Diciamo, io mi sono ritrovato in questa realtà catapultato un po' per caso. Per fortuna è stato un privilegio, perché faccio una sostituzione, sostituisco un attore, Matteo Cateni, e spero di rispettarlo. Non è stato semplice, perché gli attori di Fortapascia sono attori con la maiuscola e ti portano sempre a metterti in discussione fino in fondo. Per me è da aprile dell'anno scorso, è un'esperienza formativa continua e mi sento davvero privilegiato di lavorare sia con Valentina che con Chiara, che è stata una delle mie prime insegnanti di teatro. Non sono così vecchia. Napoli è stata un'esperienza bellissima, poi il Teatro Neste, in cui ero già stato anni fa, che è una realtà in particolare in un quartiere popolare molto difficile, che è stato un bellissimo, emozionante. Tu sei Campobassano, e l'ultima volta che sei stato su questo palco, facciamo vedere un attimo il teatro. Ecco, è un gioiellino. Ci sono anche altri attori qui. È stato un mesetto fa, no? A dicembre, sì, una commedia musicale di Andrea Ortis. È sempre emozionante? Sì, è un altro lavoro totalmente diverso, però divertentissimo. Cioè, un lavoro produttivo importante, una macchina produttiva molto grande. Mi sono divertito tantissimo. Invece è chiara che pure Campobassana non calca questo parquet? Dio, da un secolo, credo. Forse da un pirandello con rigillo. Grande rigillo. Sì, se non erro, è stato quello. Nel 2013, dove era 14. È un bel po' che non... Senti, vediamo che sei già agghindata. Sì, sono già in Vespaghetta da camera. E truccata per la prima scena. Sì, lo smontano di solito. Senti, che spettacolo è? Lo facciamo dire a te. Che spettacolo è? Uno spettacolo forte. È uno spettacolo di cui non se ne vedono tanti, così, eh. Lo spettacolo, io non lo posso, lo lascio dire al pubblico che tipo di spettacolo è, ma la cosa che, diciamo, che mi emoziona di più è vedere tutti quanti con i fazzoletti alla fine, nel senso che arrivano, piangendo e ci dicono grazie. Quindi, credo, il primo messaggio poi di questo spettacolo, del teatro che vogliamo fare, è proprio di donarlo alla comunità e di dare un senso a quello che si fa anche proprio nel rispetto degli altri. Di condividere qualcosa, non c'è più una quarta parete, si condivide moltissimo con il pubblico. Ci ritorna altrettanto tanta energia. Ed è uno spettacolo, sì, che richiede anche tanta energia. Lavorare soprattutto con questi attori qui, attori, lo ripeto, anche come ha detto, perché sono attori, che prendono appunto il loro materiale umano, emotivo e lo donano a tutti. E non è un lavoro che gli attori, tra virgoletti, classici riescono sempre ad affrontare. Per me è stata invece una grande prova anche destrutturarmi e mettere anche molto di chiara, più che molto dell'attrice. Bene, grazie. Allora, ci godiamo gli spettacoli che sono questa sera, sabato e domani, domenica, alle sei e mezza. Alle sei e mezza e aspettiamo naturalmente tutti i cittadini di Campobasso. Grazie.